Musica Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione dal territorio. In apertura a questa edizione ovviamente parliamo della tragedia che si è consumata attorno ad Isabella 90. Il questore di Padova Gianfranco Bernabèi ha espresso vivo compiacimento per il positivo epilogo di questa difficile indagine il cui merito va all'intelligente strategia e all'acumen investigativo degli uomini della sezione omicidi della squadra mobile sapientemente diretti dal vicequestore della Polizia di Stato Giorgio Di Muno. A lui, ha detto il questore, va la sincera gratitudine per gli sforzi profusi senza risparmio d'energia e per l'incalzante ritmo imposto in una fase così delicata dell'attività di indagine. Adesso sentiamo il servizio nel quale vi spieghiamo lo sviluppo che è avvenuto ieri sera con il fermo delle tre persone, Freddy Sorgato, la sorella e l'amica. Svolta nella scomparsa di Isabella 90, il caso si è concluso con l'ipotesi peggiore, quella dell'omicidio. La squadra mobile di Padova guidata dal dottor Di Muno ha lavorato ininterrottamente fino ad arrivare alla verità. In carcere, in stato di fermo, sono finiti Freddy Sorgato, la sorella Deborah Sorgato e l'amica stretta di lui, Manuela Cacco. La sorella di Freddy è stata in questura oltre dieci ore alla presenza del sostituto procuratore capo Giorgio Falcone. Una delle donne avrebbe iniziato a collaborare con gli inquirenti raccontando quanto accaduto. Isabella sarebbe stata strangolata e poi i tre si sarebbero liberati del corpo, ma non solo, avrebbero studiato anche tutta la sceneggiata nel tentativo di crearsi alibi e non farsi scoprire. La donna che appare sul video, nelle immagini di sorveglianza di Piazza dei Signori, sarebbe una delle due fermate. Una controfigura per far cadere in tranello gli uomini della polizia, ma così non è stato. Gli inquirenti hanno lavorato sodo per trovare la verità. Una verità drammatica che purtroppo rappresenta una tragedia per la famiglia 90 che da subito, conoscendo il carattere di Isabella, aveva escluso un allontanamento volontario. Un delitto che si è consumato in una situazione sentimentale malata. Isabella, più grande di Freddy, i due hanno iniziato una storia. Inizialmente andava tutto bene, poi il rapporto ha cominciato ad ammalarsi. Lui geloso, ossessionato, la controllava, le aveva messo anche un investigatore. Poi la vacanza in Egitto. Isabella e Freddy dovevano partire assieme. Invece, dopo aver litigato, lei era partita con un'amica. Freddy all'aeroporto le aveva portato una scatola di preservativi. Sembra che la sorella fosse arrabbiata con Isabella, che veniva considerata fonte di sofferenza per Freddy. E poi la figura di Manuela Cacco, anche lei amica intima di Freddy, rivale di Isabella. A vacillare in fase di indagine sarebbe stata proprio Manuela. E quelle eseguite dalla squadra mobile sono state indagini complesse che hanno valutato numerosi elementi. Il GPS montato sull'auto di Freddy Sorgato era quello che serviva a creare un alibi. Non avevano però fatto i conti con le telecamere installate anche in altre zone, come a 90 Padovana. Telecamere che hanno filmato la Fiat Punto, anch'essa di proprietà di Freddy Sorgato. A dirlo l'avvocato della famiglia di Isabella 90, Gianmario Balduin, che ipotizza che la seconda auto possa essere stata usata per l'occultamento del cadavere della donna. E naturalmente in queste ore sono in corso le ricerche proprio del corpo di Isabella. Quindi le indagini, le ricerche sono ancora in corso. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Venezia. In merito ai recenti e noti fatti di cronaca che hanno visto come protagonista il cittadino nigeriano James Osaro, di 36 anni, che ha aggredito un agente della polizia locale a Marcon, il questore di Venezia Angelo Sanna, ha emesso un opportuno decreto di trattenimento ai sensi dell'articolo 6, che indica pericolosità sociale. Si è provveduto pertanto ad accompagnarlo al CIE di Bari Palese, dove è tuttora trattenuto. Nei decorsi giorni il giudice del Tribunale di Bari ha convalidato la legittimità del provvedimento. A seguito di ciò, nei prossimi giorni, ultimate le verifiche relative all'identificazione, il 36enne nigeriano verrà accompagnato coattivamente in patria. Padova fuoriuscita di monossido di carbonio in alcune abitazioni di Forcellini. Nove persone sono rimaste intossicate. Sette persone portate all'ospedale di Padova per intossicazione da monossido di carbonio. I vigili del fuoco sono intervenuti in un'abitazione del quartiere Forcellini, su richiesta del 118, dopo i malori accusati dalle persone. I pompieri del comando di Padova, intervenuti sul posto, hanno effettuato le verifiche della casa, constatando la presenza della sostanza. Un ulteriore controllo effettuato nelle unità abitative limitrofe ha dato anche esito positivo, con il ricovero di altre due persone anziane, che poi sono state portate all'ospedale per controlli. Al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, le verifiche per individuare la causa della presenza del monossido nelle abitazioni. Sono giorni d'ansia per milioni di italiani che si trovano al cospetto di un possibile cambiamento delle regole pensionistiche. La tranquillità di una vecchiaia serena viene messa in discussione da possibili cambiamenti sulle pensioni di reversibilità del coniuge. Dal governo cercano di tranquillizzare, spiegando che nessuno ci rimetterà, ma di fatto il cambiamento potrebbe essere reale, perché la base di calcolo si appoggerà sull'indicatore ISEE. Le pensioni di reversibilità diventeranno prestazioni assistenziali da previdenziali. Dunque, grandi cambiamenti in vista. Noi seguiremo la situazione e lo faremo anche più tardi, subito dopo la nostra sigla, con l'esperto tributarista Alberto De Franceschi, che entrerà proprio nel merito della questione. Quindi rimanete con noi e seguite attentamente l'appuntamento. Adesso parliamo di una grande notizia che arriva dall'ospedale di Padova, innovazione nel campo sanitario, primo intervento in Italia all'ospedale di Padova, il primo trapianto di mandibola, un intervento innovativo che cambia la vita di molti pazienti colpiti da determinate patologie sentite. Per la prima volta in Italia, Padova è stato ricostruito con un trapianto artificiale di mandibola al volto di un paziente di mezza età di nazionalità italiana affetto da osteonecrosi. Le ripetute infezioni gli compromettevano la capacità funzionale e i dolori gli causavano limitazioni di salute. A eseguire l'innovativo intervento è stata la chirurgia maxilofacciale dell'azienda ospedaliera Università di Padova, diretta dal professor Giuseppe Ferronato, con la collaborazione dei ricercatori Giorgia Saia e Giordana Bettini, coordinati dal dottor Alberto Bedogni, esperto nel trattamento delle patologie osse e radio e farmaco indotte, assieme ad un team di ingegneri. Il delicato intervento portato a termine, con successo, è durato quattro ore. La mandibola artificiale è in titanio ed è in grado di collegare muscoli e nervi facendoli lavorare in maniera naturale. La protesi artificiale personalizzata ha sostituito buona parte della mandibola originale, includendo il condilo e il mento, regioni indispensabili per le funzioni di movimento della mandibola, articolazione della parola, masticazione, deglutizione e competenza delle labbra, nonché dell'aspetto esteriore del volto. Numerosi vantaggi immediati per il paziente, dalla sensibile riduzione del rischio di complicanze alla riduzione della possibilità di rigetto, dal recupero della migliore forma del volto in un unico intervento alla respirazione autonoma post-operatoria, dalla riduzione della necessità di accesso tracheostomico alla rapida ripresa dell'alimentazione già dalla prima giornata dopo l'intervento e al rapido recupero della qualità della vita generale. L'azienda ospedaliera di Padova conferma l'effettiva stabilità della mandibola innestata nel paziente alcuni mesi fa e dichiara riuscito il trapianto di mandibola in titanio. Il paziente ora può masticare, parlare, respirare e deglutire normalmente e soprattutto non ha più dolori, è tornato ad una normalità di vita. Questo intervento migliora il supporto del labbro inferiore, la simmetria finale della parte inferiore del viso e la competenza delle labbra. Il vantaggio delle protesi artificiali personalizzate è da considerarsi soprattutto nei casi in cui la regione anteriore della mandibola sia inclusa nell'asportazione. Le nuove protesi progettate, spiega il professor Giuseppe Ferronato, hanno dimostrato anche una buona resistenza al trattamento chemioradioterapico e potrebbero essere utilizzate nella cura dei tumori maligni del cavo orale, aprendo così la strada ai pazienti oncologici critici che non sopporterebbero altrimenti interventi ricostruttivi complessi. È stato riaperto verso le 15 di oggi in A4 il tratto autostradale tra i caselli di Padova Est e Padova Ovest in direzione Vicenza, tratto che è rimasto chiuso in seguito a un incidente stradale. Nello scontro sono rimaste coinvolte una vettura e un furgone. Fortunatamente le persone coinvolte sono rimaste ferite ma in maniera leggera, quindi non ci sono state conseguenze gravi per le persone. Sul posto la polstrada di Padova ai servizi autostradali. San Leopoldo è tornato a Padova, è rimasto a lungo in Basilica del Santo e poi è tornato a Santa Croce. Al Santo è stato anche attribuito un miracolo. Sentite. San Leopoldo è tornato a Padova dopo la partenza da Roma verso la città Uganea. Il Santo ha fatto tappa a Loreto, Bologna e martedì è arrivato in città. Mercoledì mattina cerimonia nella Basilica di Sant'Antonio dove l'arcivescovo Giovanni Tonuzzi, delegato pontificio per la Basilica e prelato di Loreto durante la messa ha parlato di un miracolo. Lunedì mentre San Leopoldo era a Loreto una ragazza con una grave infezione alla mascella sarebbe stata guarita. La giovane in attesa di intervento sarebbe stata toccata al volto da un fazzoletto che era stato sulla teca e con stupore dei medici vi sarebbe stata la guarigione. San Leopoldo nel pomeriggio accompagnato da un corteo di fedeli è tornato a Santa Croce. E la storia di San Leopoldo la troveremo anche venerdì con lo speciale di Marisa Sottovia esperta di storia. Quindi non perdete l'appuntamento. Adesso continuiamo con altri fatti di cronaca. Aveva simulato una rapina per coprire la perdita di 300 euro alle slot. Un ambulante marocchino di 28 anni aveva perso la cifra giocando ma non aveva il coraggio di affrontare la sua famiglia. Così ha scelto di fingere un'aggressione per rapina. Si era inflitto addirittura delle ferite al collo, ferite tali da dover ricorrere anche alle cure del pronto soccorso e da lì poi si era recato dai carabinieri. Il fatto è accaduto in provincia di Rovigo. A scoprire la furbata sono stati i carabinieri e ora l'uomo è stato denunciato a piede libero per simulazione di reato. Fondi di garanzia per le piccole e medie imprese italiane. Sentiamo le novità che arrivano dalla Regione Veneto per aiutare le imprese del territorio. La legge di stabilità regionale 2016 ha stanziato 35 milioni di euro per garanzia alle piccole e medie imprese. 16 milioni saranno destinati a garanzie su portafogli di finanziamenti e il 60% per la riassicurazione di garanzie prestate dai confidi. Si tratta di uno stanziamento con potenzialità enormi, frutto della consultazione delle associazioni di categoria che ho voluto incontrare. Lo sottolinea l'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato, segnalando la rilevanza dello stanziamento inserito nel bilancio regionale, approvato pochi giorni fa sul fronte dei fondi di garanzia per le piccole e medie imprese. L'effetto leva che si genera, fa notare Marcato, permette l'attivazione di 1,5 miliardi di euro di finanziamenti assistiti da garanzia alle imprese. L'accesso al credito per le piccole e medie imprese, in particolare quelle artigiane, rappresenta una delle priorità assolute per il sistema produttivo, che ha bisogno di risorse per il rilancio. È inutile parlare di occupazione se poi non si sostengono e quindi si uccidono le imprese. Con queste risorse, aggiunge Marcato, si dà attuazione a quanto già annunciato dal Presidente Zaia, testimonianza della massima attenzione della Giunta per il rilancio del Veneto. Mi preme evidenziare, dice l'assessore, che con questo articolo di finanziaria diamo una risposta al settore del commercio, stanziando 1.700.000 euro per la realizzazione di progetti a favore delle attività commerciali nei centri urbani, la cui rivitalizzazione è un obiettivo in cui credo fermamente, perché porta non solo economia, ma anche sicurezza. I centri storici, conclude Marcato, rappresentano anche la nostra cultura e la nostra identità, che hanno purtroppo subito vere e proprie picconate, favorendo lo sviluppo di mega aree commerciali, a volte con logiche poco comprensibili. Il mio obiettivo, conclude Marcato, è aiutare l'economia senza perdere l'identità dell'imprenditore veneto. Ed ora uno sguardo alla situazione climatica. Una saccatura proveniente dal nord atlantico e situata tra la Spagna e l'Italia meridionale sta confluendo aria umida verso il Veneto. Questa saccatura influenzerà il tempo fino a venerdì, portando una variabilità sulle condizioni climatiche, ma con prevalenza di tratti soleggiati specie domani. Nel fine settimana l'espansione temporanea di un promontorio anticiclonico determinerà tempo stabile e soleggiato, con sensibile aumento delle temperature specie in quota nella giornata di domenica. Siamo arrivati alla conclusione, come vi abbiamo anticipato nel corso telegiornale del telegiornale. Tra qualche attimo vi parleremo di pensioni nella rubrica condotta da Alberto De Franceschi, mentre subito dopo l'appuntamento è con obiettivo città, ospite della puntata l'assessore alla sicurezza del comune di Padova, Maurizio Saia. Grazie per essere stati con noi, a domani. Signore e signori, buonasera. Con la collaborazione del mensile La Voce, dell'Alta Padovana, Miranese e Bassamarca, e offerto da Vidor, taglie comode, unlimited size, va ora in onda, risponde l'esperto. Buona visione! Amici di Risponde l'esperto, buonasera, bentornati a questo nuovo appuntamento. Oggi, come abbiamo preannunciato sulle nostre pagine web e anche in altri sistemi di informazione, parliamo di una cosa molto importante. È datato 8 febbraio l'introduzione di un disegno di legge a firma del Ministro Poletti, che andrà a riformare le pensioni reversibili e poi vedremo non solo. Allora, cos'è una pensione reversibile? La pensione reversibile è quella pensione che spetta il primo giorno successivo alla morte di uno dei due coniugi. È una pensione che per poterla ottenere dobbiamo avere una situazione paritetica a quanto segue 780 contributi settimanali versati, oppure almeno 260 contributi settimanali per almeno 3 anni nell'ultimo quinquennio. Quindi, una situazione molto particolare, quindi vuol dire che la gente ha versato per averla. Praticamente, come viene a essere concessa la pensione di reversibilità? Allora, la pensione di reversibilità per i coniugi superstite, cioè chi è rimasto in vita, ha queste tre possibilità. La prima, 60% se sei in presenza di un solo conuge. La seconda, 70% per esempio in presenza di un figlio, oppure 80% in presenza di due figli, oppure 100% con più di due figli. E la terza, qualora ci siano degli inabili o degli altri familiari a carico, spetta in percentuali del 15% a salire. Ecco, da qui si capisce che la pensione di reversibilità è veramente una pensione ad ammortizzatore sociale, cioè serve nelle fasce basse del reddito. Perché è stato pensato di fare una riforma su questo tipo di pensione? Perché non si vogliono i cosiddetti matrimoni lampo, ovvero sia quei matrimoni dove ci siano, per esempio, grandissime differenze di età tra i due coniugi e fatti magari all'ultimo, poco prima di morire. Bisogna fare una considerazione che dal 2011 esiste già una normativa, ed è quella che prevede che almeno 10 anni bisogna che ci siano nel matrimonio perché si consolidi il diritto della reversibilità. Si andrebbe, teoricamente, forse ad aggiungere che si vogliono creare quelle situazioni tipo se uno ha 70 anni e c'è una differenza di età di 20 anni. Diciamo che è un percorso abbastanza complesso e abbastanza delicato e di cui vedo difficilmente una focalizzazione con una normativa. C'è anche da dire che questa tipologia di pensione può essere legata anche a un abbassamento, una riduzione o una sospensione legandola all'ISE, che è un'altra tipologia di soluzione che è stata prospettata. Noi abbiamo fatto tre casi. Il primo caso, per esempio, di una vedova con il 50% di un appartamento, dove oggi aspetterebbe il 60% della reversibile, fin tanto che ha un reddito massimo di 13.050 euro. Allora, con la nuova introduzione dell'ISE e di questa normativa di reversibilità, difficilmente avrebbe il diritto di avere la pensione reversibile. Situazione diversa, un vedovo senza figli è funzionario di banca dove ha un reddito anno di 60.000 euro con titoli di investimento per 200.000 euro e in questa situazione oggi avrebbe una pensione reversibile di 646 euro, successivamente per esempio la perderebbe. Ultimo caso, per esempio, una vedova con tre appartamenti, dove l'ex coniuge aveva un reddito anno di 30.000 euro con una pensione di circa 600 euro al mese, più titoli per 50.000 euro, più affitti per 8.400 euro, in questo caso qui la pensione reversibile avrebbe un taglio del 25%. Giusto per fare un calcolo di che cosa potrebbe accadere nel momento in cui si andrebbe ad applicare questa normativa. Diciamo che questa situazione è abbastanza scoppiettante, tant'è vero che il Ministro Paoletti ha fatto un comunicato stampa dove ci ha detto che assolutamente non ci saranno tagli, non ci saranno cancellazioni. Da parte nostra dovremmo dire che purtroppo, caro Ministro, nella legge non solo non c'è scritto che non ci saranno tagli, non ci sarà altro perché è un disegno di legge ad ampio raggio, ma c'è anche scritto che questo disegno di legge colpirà anche l'assegno di disoccupazione, l'assegno alle famiglie povere e indigenti e la pensione sociale. Credo che con questo abbiamo capito realmente che di questa materia ne sentiremo ancora per tanto tempo, ne parleremo ancora, magari faremo altri approfondimenti speciali nel momento in cui avremo una norma che sia almeno definitiva, però sinceramente cominciamo un po' a ragionarci sopra e anche qualche volta a preoccuparsi, non tanto, perché finché non c'è certezza bisogna aspettare un attimo. Cari amici, vi rinvito a scriverci o a chiamarci al numero in sovrimpressione per porre i vostri casi e dubbi che risponderemo durante il corso di queste trasmissioni o nelle nostre pagine web. Vi rimandiamo l'appuntamento alla prossima settimana, sempre dopo il Tg. Sapete che la nostra trasmissione viene ripubblicata sia nelle pagine web, sia nel giornale La Voce e Filo Diretto, ogni mese in tutte le piazze è un free press gratuito e vi rimando alla prossima settimana dove parleremo di certificazione unica, ma state attenti che non per tutti arriverà a casa. Un saluto a tutti! Con la collaborazione del mensile La Voce dell'Alta Padovana, Miranese e Bassamarca e offerto da Vidor Taglie Comode Unlimited Size, signore e signori, buonasera! Obiettivo Città torna a parlare di sicurezza, la gestione della sicurezza passa anche attraverso la tecnologia. Parliamo allora delle nuove dotazioni in utilizzo alla Polizia Locale, ce ne parla l'assessore Maurizio Saia. È partita un'altra piccola rivoluzione nella Polizia Locale a Padova e da oggi, da questi giorni, ogni agente ha un tablet, sia che sia un agente a piedi, sia che sia un agente in moto o con dei mezzi, ovviamente automobili, furgoni, jeep, qualsiasi spostamento dell'agente prevede che sia dotato del tablet. Il tablet è una rivoluzione che ovviamente è comprensibile a tutti passare da carta e penna o da avere quel cinturone antipatico con un borsello dove ci sono, ahimè, il blocchetto, le contravenzioni, ma poi lo stradario per dare informazioni, il codice della strada e quant'altro. Non è tanto e solo questo, anzi direi che prima di tutto il tablet è un nuovo modo di lavorare, la consapevolezza di un agente che sul territorio conosce immediatamente le realtà, le situazioni dove è costretto o deve andare, o preventivamente già preordinate oppure per emergenze. Faccio degli esempi banali, arrivare in un locale che crea disturbo, problemi di notte significa conoscere la storia di quel locale, conoscere i precedenti, sapere se è problematico in maniera grave oppure no, sapere se dei colleghi agenti sono andati un'ora prima piuttosto che il giorno prima, conoscere se ha avuto riduzione di orario, conoscere la storia di qualsiasi posto, in questo caso di un locale dove la gente si recca. Questo significa una consapevolezza nell'intervento diversa perché sapere che ci sono situazioni di pericolo, di aggressività o situazioni tranquille cambia completamente l'atteggiamento di cui a volte il cittadino si lamenta perché magari la gente per motivi di insicurezza tende ad essere magari più aggressivo. Questo significa a tutto campo e a tutto tondo esercitare un'attività diversa sia nell'ambito amministrativo, commercio, edilizia, codice della strada, territorio quindi dal punto di vista della polizia stradale come anche nell'attività giudiziaria molto importante sulla quale questa polizia locale, questa amministrazione dedica particolare attenzione. Poi è chiaro che il tablet serve anche per fare le contravenzioni, serve per stamparle perché in quel caso saranno solamente alcuni agenti preposti a questo, non gireranno con la stampantina tutti. Prossimamente se questo governo centrale a Roma ci dà la possibilità di assumere nuovi agenti ma per adesso è ancora tutto bloccato, noi andremo a individuare anche una ventina di ausiliari del traffico che faranno solamente e esclusivamente questo tipo di attività, cioè la sosta vietata cosiddetta. Quindi il tablet serve anche per le contravenzioni, serve per informazioni, serve per vedere le telecamere. Stiamo, come si è già detto più volte in queste ultime settimane, stiamo partendo con questo sistema di videosorveglianza nuova che cambierà non tanto nei numeri perché saranno 300-350 telecamere in più sul territorio come inizio, ma soprattutto saranno telecamere intelligenti quindi che ti attiveranno e ti allarmeranno. A quel punto è importante che l'allarme non arrivi solo a una centrale operativa ma arrivi anche alla gente che è sul territorio e quindi il sistema si cerca la gente o la pattuglia che è più vicina a quel territorio dove la telecamera ti sta allertando di un evento o di un potenziale consumazione di un reato e tu sei già sul posto e in tempo reale ti vedi la telecamera dal tuo tablet. Diciamo che è veramente una rivoluzione e un modo nuovo di concepire l'attività di polizia locale in particolare della prossimità, cioè quando sei sul territorio, per risolvere i problemi dei cittadini prima possibile e con più rapidità.